Non c'è tanto, non c'è tanto. Nugidio Burifa a Livigno, tre volte campione d'italiano di maratona, sta ancora preparando una grande maratona autunnale. 30 km al giorno, in su carico di lavoro, due appuntamenti quotidiani con la pista ciclabile di Livigno, al passo del 3 minuti al chilometro. Quanto stiamo andando adesso, amici Dio? 3.35, 3.40. 3.44, 5.40. 15.53, 6.90. Grazie dai! Grazie a tutti.